E anche dall'America, Ford e Chevrolet sono pronti a stupire, con l'attesissima B-Max e la Trax, la prima SUV compatta della casa del cravattino. È un rinnovamento profondo e orientato all'utente, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale, quello intrapreso da Ford, intenzionata ad aggiornare completamente la gamma da oggi al 2017. Tra le tante anteprime di oltroceano, la premier mondiale della nuova generazione della Mondeo, sia versione berlina che station. Primo modello costruito sulla base della nuova piattaforma globale Ford per il segmento C e D. Il comfort della Mondeo è garantito da nuove sospensioni posteriori con design integral link, sedili con funzione massaggio, volante riscaldato e a regolazione elettrica con memoria. Offerta nelle varianti a 4 e 5 porte, nonché wagon, ha a disposizione un'ampia dotazione di tecnologie innovative. Sotto il cofano, la nuova Ford Mondeo avrà il motore a benzina EcoBoost 1000 ed una variante Econetic Diesel 1.6. In alternativa, si potrà scegliere tra gli EcoBoost 1.5-2.000 e il 2.0 TDCi Diesel. Novità per il modello è anche la trazione integrale per la prima volta accoppiata ad un motore diesel.